In attesa del vaccino, gli anticorpi naturali ricavati dal plasma dei pazienti guariti stanno dando ottimi risultati. Il problema è però rappresentato dalle donazioni. Potrebbero essere insufficienti, ma ora una novità incoraggiante potrebbe arrivare da una ricerca internazionale che vede tra i suoi protagonisti anche il Neuromed, lo studio guidato dall'Università Canadese di Toronto e alla quale l'Italia partecipa anche con l'Università di Torino, lo Spallanzani e per l'appunto l'Istituto di Pozzilli ha dimostrato che anche gli anticorpi monoclonali sintetici neutralizzano il virus. Ciò significa che possono essere prodotti in laboratorio in tempi abbastanza rapidi e con risultati soddisfacenti, dicono i ricercatori che stanno lavorando al progetto. Tra i vantaggi degli anticorpi sintetici quello di adattarsi a eventuali mutazioni del virus. Il gruppo italiano è già nelle condizioni di procedere con la sperimentazione clinica e si augura che possa essere fatta anche in Italia. In attesa del vaccino infatti significherebbe avere in tempi rapidi un'arma efficace contro il virus. Intanto i ricercatori del Neuromed hanno incassato un altro importante riconoscimento. Un lavoro scientifico di Maria Laura Bonaccio è stato infatti premiato dalla Fondazione Veronesi. La ricercatrice del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione di Pozzilli ha condotto uno studio sugli effetti benefici del peperoncino nella prevenzione di patologie croniche e degenerative. La Fondazione ha assegnato due borse di studio anche ad altri due ricercatori del Neuromed, Alessandro Gianluisi e Fabrizia Noro. Porteranno avanti i loro studi al Neurobiotech di Caserta e all'Università di Lovanio in Belgio.